Musica Avrebbero agevolato anche le cosche di Indrangheta di Vibo Valencia, sei arresti nel Vare Sotto. Emergenza sbarchi nella Locride incontro con il prefetto di Reggio Calabria. Visita istituzionale della Ministra per la Disabilità Alessandra Locatelli in Calabria. Consegnata l'onoreficenza di commendatore a Don Giacomo Panizza dal Presidente della Repubblica. Salve e ben ritrovati con l'informazione di Calabria TV. La Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Milano ha emesso un'ordinanza di custodia catelare emessa dal GIP di Milano nei confronti di sei soggetti ritenuti appartenenti ad un'associazione per delinquere finalizzata alla Commissione di Reati di Natura Economica e che ha anche agevolato le cosche di Indrangheta di Legnano, Lonate e Pozzolo e quella di Vibo Valencia. Che l'Indrangheta dalla Calabria si sia trasferita nelle regioni del nord economicamente più ricche è ormai cosa risaputa. Per questo, sempre più spesso, si viene a conoscenza di operazioni di polizia che partono proprio da lì e che coinvolgono le indrine e madri ancora operanti sul territorio calabrese. Questa mattina la Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Milano, nell'ambito di complesse indagini nel settore della criminalità organizzata, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sei soggetti ritenuti appartenenti ad un'associazione per delinquere finalizzata alla Commissione di Reati di Natura Economica e che ha agevolato le cosche di Indrangheta, di Legnano, Lonate e Pozzolo e quella di Vibo Valencia. In particolare, le indagini di polizia giudiziaria svolte dai nuclei di Polizia Economica e Finanziaria di Valese e Milano e dai Naste Carabinieri di Milano hanno consentito di individuare un sodalizio che si ipotizza fosse dedito all'acquisizione di società decotte che venivano portate al prematuro fallimento, non prima però di averne depauperato i beni e avendo fatto debiti, soprattutto nei confronti dell'erario. I fondi e i beni sottratti per oltre 4 milioni di euro appartenenti a tre società dichiarate fallite dai tribunali di Milano, Bergamo e Monza venivano dirottati attraverso false fatturazioni in favore di altre imprese del gruppo, anche localizzate all'estero. L'ambito che ultimamente faceva più gola era quello sanitario lombardo, legato all'emergenza Covid, con forniture di materiale sanitario e l'esecuzione di tamponi da parte di soggetti non professionalmente autorizzati. Le indagini hanno anche consentito di rilevare che uno degli indagati aveva agevolato le cosche di Lonate Pozzolo e Vibo Valencia, contribuendo al mantenimento finanziario di elementi di spicco delle stesse indire e dei loro familiari, anche procurando loro falsi contratti di assunzione. Nell'appello bis dell'operazione Acero-Crupi contro un traffico di stupefacenti nella Locride che si è tenuto a Reggio Calabria, 8 condanne e 3 assoluzioni. Si è concluso con 8 condanne a complessivo 84 anni di reclusione e 3 assoluzioni e la dichiarazione di nullità della sentenza per un imputato, il processo di appello bis del troncone celebrato con il rita abbreviato del processo scaturito dalla Max Operazione Acero-Crupi che vedeva alla sbarra 12 imputati. Nel dettaglio i giudici della Corte di Appello di Reggio Calabria, Presidente Vincenzo Cefalo, consiglieri Claudio Iacinto e Cate Asciutto, hanno disposto alla determinazione delle condanne dei seguenti imputati Francesco Canizzaro, pena complessiva di 8 anni e 9 mesi, Giuseppe Coluccio 20 anni, Salvatore Coluccio 10 anni e 5 mesi, Francesco Commisso, classe 56-10 anni, Vincenzo Crupi 8 anni, Angelo Figliomini 8 anni e 6 mesi, Cosimo Figliomini 8 anni e 6 mesi e Nicola Tassone 10 anni e 10 mesi. Assolto con la formula per non aver commesso il fatto, Giuseppe Crupi, difeso dall'avvocato Antonio Speziale che dopo il rinvio della Cassazione ha insistito nella richiesta assolutoria evidenziando l'insussistenza dei riscontri alla tesi dell'accusa che contestava all'imputato il reato di partecipazione a un'associazione mafiosa, assolti pure Massimo della Valle dal reato associativo mafioso e Cristian Tassone per un reato fine, entrambi per non aver commesso il fatto. Infine i giudici Regini hanno dichiarato l'annullità della sentenza impugnata in relazione al reato di partecipazione a un'associazione mafiosa nei confronti di Antonio Archinà. Per l'imprenditore sidernese, difeso dall'avvocato Leone Fonte, la Cassazione aveva annullato l'ordinanza e il Tribunale della Libertà l'aveva scarcerato e con la sentenza di ieri gli atti che riguardano la sua posizione sono stati trasmessi alla procura distrettuale antimafia. Emergenza sbarchi nella Locride se ne è discusso in un incontro organizzato dal comune di Siderno dei sindaci dei comuni della Locride insieme al prefetto di Reggio Calabria Massimo Mariani. Il prefetto di Reggio Calabria Massimo Mariani ieri a Siderno ha incontrato i sindaci della Locride per fare il punto sull'emergenza migrazioni dopo oltre i 1300 migranti sbarcati nella Locride negli ultimi giorni. Il prefetto ha lasciato intendere una sostanziale continuità nell'azione della prefettura e delle forze dell'ordine nell'affrontare gli sbarchi. Serve organizzazione e non allarmismo ha lasciato intendere ai nostri microfoni il prefetto Mariani. La nostra organizzazione ha retto bene le oltre 650 persone sbarcate negli ultimi giorni a Roccella. Mi pare ovvio che ci si deve un attimino attrezzare, quantomeno abituarsi all'idea che dovremmo affrontare giorni abbastanza impegnativi e quindi dobbiamo attrezzarci tutto qui. Quindi volevo confrontarmi con i sindaci, ho colto questa occasione del convegno per sentirmi, organizzarmi con i sindaci e richiamare l'attenzione sull'esigenza di mettersi nelle condizioni, di affrontare un periodo che sarà sicuramente abbastanza gravoso, anche perché fra l'altro si tende molto a richiamare l'attenzione su Roccella Ionica, ma in realtà gli sbarchi avvengono un po' ovunque, quindi non è solo questione del sindaco di Roccella, per cui è nell'interesse di tutti essere pronti in caso di necessità. E poi naturalmente l'ottica è sempre quella di un rapporto solidale fra le amministrazioni, perché naturalmente 650 persone questo fine settimana sono sbanzi, più di 650 per la verità, sono sbarcati autonomamente a Roccella, ma in ipotesi un'imbarcazione si può allenare ovunque e quindi un sostegno reciproco è molto migliore per affrontare queste situazioni. E' decollato in mattinata dall'aeroporto di Crotone destinazione Hamburgo l'aereo della compagnia polacca Enterair con a bordo 32 dei sopravvissuti al naufragio di steccato di Cutro, che hanno ottenuto il ricollocamento in Germania chiedendo la protezione internazionale. Andranno in un centro di accoglienza ad Hamburgo, da dove poi sbrigate le pratiche burocratiche con la Germania potranno riunirsi alle loro famiglie. Sette ragazzi sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per i minori di Catanzaro, poiché ritenuti i presunti autori dell'aggressione ai danni di una coetanea avvenuta nell'ottobre scorso in pieno centro a Vibo Valencia. Ai sette indagati è stato notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari. Sono accusati dei reati di percossi aggravati e di diffamazione, correlata all'indebita circolazione del video ritraente l'aggressione. I ragazzi, all'uscita di scuola e ancora nei paraggi della stessa, per futili motivi hanno aggredito una coetanea. Dapprima fatta bersaglio di insulti e minacce verbali, poi colpita con pugni e schiaffi da alcuni componenti del gruppo, mentre altri incitavano all'aggressione fisica, filmando il tutto con i propri cellulari. L'Osservatorio nazionale sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali sta organizzando una serie di incontri nelle scuole superiori di alcune città italiane per sensibilizzare gli alunni su questo fenomeno che sta diventando sempre più pressante. Gli amministratori locali spesso vanno incontro a problematiche legate alla loro sicurezza subendo atti intimidatori da parte della criminalità organizzata territoriale al fine di ottenere delle agevolazioni o comunque per non essere ostacolati nei loro affari. Per sensibilizzare su questo fenomeno non da poco il Ministero degli Interni ha avviato un progetto che tende ad informare i giovani delle scuole superiori affinché prendano coscienza di questa problematica, con una serie di incontri tematici ai quali devono prendere parte sia le forze dell'ordine che gli amministratori. A Vibo Valenza uno di questi incontri si è tenuto presso l'Istituto Tecnico per Geometri. Era una giornata difficile perché è un tema che per i ragazzi sembra lontano dalla loro vita reale. Invece questa giornata ha dimostrato che anche giovani si può cominciare a porre il problema degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali perché si può fare molto sia personalmente sia all'interno delle famiglie. La lotta è serrata ma va fatta su diversi piani. Oggi siamo sul piano della cultura della legalità, cioè siamo di fronte a dei ragazzi che hanno voglia di conoscere, di capire i fenomeni e sono delle spugne. Quindi vogliono capire come le forze di polizia, come le istituzioni locali si atteggiano di fronte a questo fenomeno. Ma quello che abbiamo cercato di fare è di instaurare con loro un dialogo molto franco, molto sereno e lanciando anche dei messaggi. Il messaggio più importante è quello che rispettare le regole è alla base della civile convivenza. Per cui quello che viene chiesto non solo agli amministratori locali che hanno il dovere di governare, e governare vuol dire servire, ma la cosa che abbiamo chiesto a loro è ciascuno al proprio livello, anche sui banchi di scuola, ha il dovere di rispettare le regole. Il messaggio è quello che è fondamentale che questi ragazzi capiscono di fare parte di una società, di una società che ha delle regole, delle leggi e il rispetto delle stesse porta automaticamente anche a essere solidali e vicini ai pubblici amministratori che per far rispettare queste leggi possono essere anche minacciati da parte di alcuni membri della comunità che forse non sono molto integrati nella società stessa. L'occasione è stata utile per insufflare, possiamo dire così, nei ragazzi ancora di più il senso della crescita collettiva, il senso civico, quello del rispetto, dell'amore per il territorio, per il pubblico, per la cosa pubblica in generale. L'obiettivo principale di questo progetto è quello di sviluppare nei nostri alunni la cultura e la legalità, quindi di rispettare quanto sia possibile il più le regole che riguardano l'argomento che abbiamo trattato ma le regole in generale. Il progetto si sviluppa in una fase di formazione a cura appunto del prefetto della questura e quindi oggi anche delle forze dell'ordine e poi in una fase di produzione di un elaborato che sarà un filmato di massimo 2-3 minuti nel quale gli studenti dovranno mettere in atto l'idea dell'azione di sensibilizzazione contro gli atti intimidatori. Il Consiglio regionale della Fiscat Calabria in un incontro fa il punto sulla situazione legata ai settori del turismo e dei servizi. Nella giornata odierna proprio il Consiglio regionale della Fiscat Calabria intende fare il punto su una serie di questioni legate ai settori che seguiamo tra cui il turismo, i servizi, il commercio e gli appalti in genere in quanto riteniamo che gli attuali dati economici occupazionali stanno dando dei segnali di leggera ripresa e quindi siamo consapevoli e riteniamo che i settori di nostra competenza possano essere trainanti per l'economia e lo sviluppo di questa regione. Sono temi importanti che dobbiamo affrontare anche attraverso delle richieste di incontro che abbiamo fatto alla Regione Calabria e ai vari ripartimenti, quindi lavoro, turismo, welfare e servizi sociali proprio perché bisogna in una regione splendida come la Calabria avviare subito a un protocollo che possa vedere sottoscritto un patto per il lavoro nei settori del turismo per creare occupazione di qualità, per creare occupazione stabile, per dare la possibilità ai lavoratori di lavorare e di avere dei contratti dignitosi e quindi destagionalizzare perché la Calabria ha tutte le potenzialità per offrire dei servizi turistici legati non solo alla stagione estiva ma soprattutto cercando di creare le condizioni per fare rete insieme ai sindaci e a tutte le associazioni datoriali per creare già da oggi le condizioni di un tabellone sugli eventi invernali. I settori che seguiamo sono praticamente segnati da tante vertenze ma soprattutto anche da mancati rinnovi contrattuali. Uno in questo momento è quello che balza più alle cronache perché è il mancato rinnovo del contratto del settore della vigilanza privata armata e nonno che è scaduto da oltre sette anni e non si riesce a chiudere. Le associazioni datoriali continuano a perdere tempo tant'è che sono previste delle iniziative nazionali a sostegno di questa vertenza e noi come Fisaskat Calabria insieme ai colleghi della Filcams e della Wiltux abbiamo proclamato una giornata di sciopero che sfoggerà in una manifestazione regionale che si terrà il 17 aprile a Catanzaro davanti all'ufficio regionale del governo quindi davanti alla prefettura. È partita da Catanzaro la visita istituzionale in Calabria della ministra per la disabilità Alessandra Locatelli che alla cittadella regionale insieme all'assessore alle politiche sociali Emma Steine ha incontrato i rappresentanti del centro servizi per il volontariato di Cosenza in occasione proprio dell'avvio delle iniziative programmate per l'anno di Cosenza città del volontariato 2023. La Calabria colmi il gap che ha avuto in questi anni, la ministra Locatelli è molto preparata e molto competente nel ruolo che svolge ed è molto a cuore, la Calabria tant'è vero che sarà qui tre giorni affinché possa vedere sia le criticità sia le potenzialità di questo territorio e in modo che poi possa sostenerci a 360 gradi. In termini di contenuti concreti innanzitutto un riconoscimento alla città di Cosenza ma a tutta la Calabria, fa in modo di accendere un faro nazionale, prende il posto di Bergamo che è stata capitale del volontariato nel 2022 e fa emergere tutto il meglio che c'è in questa regione. Chiederemo subito dopo la conferenza stampa, il ministro farà una riunione operativa con i dirigenti della regione Calabria del Dipartimento Welfare e si farà in modo che si attenzionino tutti i nostri progetti e tutte le nostre soluzioni che abbiamo messo in campo anche nel campo dell'autismo. Un gap da recuperare c'è ma sono sicura che abbiamo un mondo del terzo settore e dell'associazionismo molto forte che come in tante altre regioni mi ha sorpreso per davvero la capacità di progettare in maniera straordinaria. C'è bisogno di stargli vicino, sono qui anche in regione Calabria proprio per cercare di rafforzare questo modo di lavorare, cioè lavorare tra istituzioni, associazionismo, mondo del terzo settore per arrivare a raggiungere i bisogni dei cittadini. Sono tantissime, io li ho qua tutte e adesso andremo nel pomeriggio alla Mezzia Terme, poi ci sarà Reggio Calabria fino ad arrivare poi al centro per l'autismo di Giovanni Marino, a Fondazione Marino il 2 aprile proprio in occasione della giornata per le persone con disturbo dello spettro autistico, una giornata importante che ho deciso, ho voluto fortemente venire diciamo a ricordare qua in Calabria. Credo che questo sia un momento in cui non stare solo dietro alla scrivania ma visitare i centri, dagli forze. Ci sono tante cose da fare sicuramente dal punto di vista nazionale, dal punto di vista regionale e dal punto di vista locale. Dal punto di vista nazionale ci sono dei fondi sia per la ricerca sia dei fondi che possono accompagnare le persone ad una età adulta attraverso un percorso e questo è fondamentale, mettere il progetto di vita davanti a tutto, la persona al centro di un progetto di vita anche quando si tratta appunto di un disturbo dello spettro autistico è ancora più importante. Quindi sicuramente adesso con i nostri amministratori regionali queste riflessioni le faremo e poi anche dal punto di vista locale e anche dei cittadini secondo me c'è un grande salto di qualità mentale da fare, vedere in ogni persona un talento, una competenza da valorizzare. Questa è la cosa che ci può portare ad avere un altro sguardo e quindi anche a garantire a tutti il giusto posto nelle nostre comunità e a rafforzarle. Partirà proprio in queste settimane il tavolo per la proposta di definizione diciamo del riconoscimento del caregiver familiare, l'avevamo detto e quindi lo facciamo. Parte il tavolo e sono molto contenta, parteciperò sicuramente al primo incontro di insediamento e spero che si possa trovare quel minimo fattor comune per dare quel riconoscimento in particolare ci tengo sempre a dirlo al caregiver familiare convivente che sono quelle persone che 24 ore su 24 amano e curano e non si risparmiano mai, spesso sono isolate e noi invece vogliamo stargli vicino. E si è svolto in un clima di nervosismo il nuovo consiglio comunale a Crotone. Vediamo. Si è celebrato il nuovo consiglio comunale con un po' di nervosismo. Ci sono infatti troppi gruppi consigliari, ben 21, su 32 consiglieri e molti di questi gruppi sono stati costituiti da una persona sola. Il consiglio dell'amministrazione voce non trova pace, per questo, per alcuni i troppi gruppi consigliari sono legittimi, per altri invece graverebbero sulla spesa pubblica. Io le chiedo, come la maggioranza ha colto la rimodulazione di Antica Crotone che vorrebbe valorizzare gli scavi, ma gli scavi in città non ci sono? Allora, diciamo che questo progetto dell'Antica Crotone, come tutti sappiamo, quindi è ben generasse questo progetto affinché si potesse andare avanti, anche perché nel 2025 mi pare che scade proprio il progetto e quindi a quel punto si rischia di perdere anche i finanziamenti. Pertanto è stato necessario rimodulare e cercare di fare le cose comunque più importanti e le cose che non creano intralcio all'interno della città, perché noi sappiamo fare uno scavo magari in Piazza della Resistenza qui a Crotone nel futuro può arrecare alcuni danni. Io lo so che è mortificante questo qui, potrebbe essere qualcosa di negativo perché insomma gli scavi è necessario che ci siano e vengono effettuati. Io sono di questa idea, però penso che andava fatto già dall'inizio, dobbiamo parlare di dieci anni fa, bisognava programmare per bene, anche perché qui alcuni scavi sono stati fatti all'interno della città, ma sono stati sempre chiusi e mai valorizzati e non solo le motivazioni. Allora che facciamo? Continueremo a fare degli scavi che poi rimarranno chiusi e non si farà nulla di particolare. Di estrema importanza, insieme alla Consigliere a Cavallo abbiamo voluto richiamare l'amministrazione in ordine a quelle che sono le enormi opportunità che vengono date dall'esistenza di una fortezza demaniale così splendida quale il Castello di Carlo V, che però a tutt'oggi è ancora da bonificare, nonostante che tramite la progettualità dell'Antica Crotone, caso credo più unico che raro, il Comune ha inteso finanziare la bonifica, quindi ha inteso finanziare il Governo italiano in pratica. Questi lavori di bonifica non sono ancora iniziati, ma c'è di più, c'è molto di più. Ecco, in questi giorni non se ne parla affatto e se ne dovrebbe parlare molto invece. L'amministrazione si interroga in ordine all'opportunità di acquisire, sulla base di una normativa sul federalismo demaniale, proprio la titolarità del Castello. Ma non basta dire lo teniamo aperti in questo caso, in questo caso bisognerà mettere in campo tutta un'attività di progettazione e allo Stato gli uffici non sono nelle condizioni di poter svolgere un'attività tanto imponente. Già gli uffici, bisogna dargli atto, come abbiamo avuto modo di discutere poi nell'altro punto all'ordine del giorno, quello sull'archivio storico. Ecco, ad esempio, il settore preposto è riuscito, anzi riuscirà da qui alle prossime 24 ore, a partecipare a un bando che speriamo doti questa città di un finanziamento che consenta l'attivazione di un servizio che è appunto quello dell'archivio storico. Don Giacomo Panizza, fondatore nel 1976 di Progetto Sud alla Mezzia Terme, è stato insignito dal Capo dello Stato Sergio Mattarella della onorificenza di commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. E concludiamo con l'ultima notizia. Anna Maria Frustraci apre l'edizione 2023 di V-Book Legalità. Una mattinata per spiegare ai giovani perché conviene ancora lottare contro la criminalità. Torna il marchio V-Book e torna sul tema della legalità. Torna il marchio V-Book con il suo format di promozione editoriale che nel tempo si sta dimostrando un'idea originale ed innovativa, capace di dialogare con l'opinione pubblica, soprattutto con i giovani. Ed i giovani sono stati protagonisti assoluti della prima parte della giornata di V-Book 2023 che nella sala congressi del 501 Hotel ha visto la presenza di centinaia di alunni delle scuole vibonesi che si sono confrontati con il magistrato Anna Maria Frustaci, autrice di un libro dedicato ai ragazzi dal titolo Eloquente, la ragazza che sognava di sconfiggere la mafia. A discutere con l'autrice, la scritterice ed attivista del movimento Agende Rosse Silvia Camerino, assieme alla dirigente scolastica Tiziana Furlano, presente il sindaco Maria Limardo. Il risultato è stata una mattinata intensa che ha saputo creare le condizioni affinché i ragazzi presenti potessero comprendere perché una giovane donna decide di rinunciare alla sua libertà per assicurare la giustizia, chi invece la libertà la vuole togliere. Una mattinata particolare dove i ragazzi hanno dato una testimonianza diretta rispetto al messaggio che lei con il suo libro ha voluto dare. Gli studenti che sono intervenuti oggi hanno mostrato una grande attenzione ai temi complessi che abbiamo trattato ma soprattutto hanno rappresentato con delle immagini che mi hanno colpito i passaggi salienti della storia che racconto nel libro. La formula di V-Book è proprio questa, coinvolgere i ragazzi a riflessioni attraverso la lettura del libro che vuole essere valorizzato ancora oggi come strumento di conoscenza. La lettura è lo strumento principale per trovare consapevolezza e soprattutto per crescere nella libertà e nella capacità di avere uno spirito critico. Quindi avere assistito all'analisi addirittura anche di tanti passaggi del testo attraverso la storia raccontata nel video mi ha molto colpito perché hanno mostrato veramente i ragazzi di avere una grande attenzione anche per temi difficili e complessi. È tutto per questa edizione, vi lascio ora con le notizie dall'Italia e dal mondo. Grazie per averci seguito. Grazie per averci seguito. La santa sede precisa che potrà poi presiedere i riti della settimana santa. Stop a chat GPT finché non rispetterà la disciplina della privacy lo ha deciso il garante per la protezione dei dati personali disponendo con effetto immediato la limitazione provvisoria del trattamento dei dati degli utenti italiani nei confronti di No Penai, la società statunitense che ha sviluppato e gestisce la piattaforma di intelligenza artificiale in grado di simulare ed elaborare conversazioni umane. Nel provvedimento il garante rileva la mancanza di un'informativa agli utenti e a tutti gli interessati i cui dati vengono raccolti ma soprattutto l'assenza di una base giuridica che giustifichi la raccolta e la conservazione massiccia di dati personali. Via Rasella, una pagina tutt'altro che nobile della resistenza a quegli uccisi, una banda musicale di semi pensionati e non nazisti delle SS. Così Ignazio Larussa, presidente del Senato, descrive l'attacco partigiano a cui i tedeschi reagirono con l'eccidio delle fosse arbiatine. L'anniversario della strage in cui vennero trucidate 335 persone, tra cui ebrei partigiani e antifascisti, quest'anno è diventato un caso, dopo la frase della premier Giorgia Meloni che aveva detto uccisi solo perché italiani. Ora è scoppiata una nuova polemica per le dichiarazioni della russa. Dal PD all'Ampi la denuncia, parole indegne per l'alta carica che ricopre. Sulla guerra in Ucraina interviene il presidente bielorusso Alexander Lukashenko che chiede una tregua immediata per il rischio di una guerra mondiale, affermando che se la leadership russa dovesse intravedere i rischi di un collasso potrebbe utilizzare le armi più terribili. Risposta immediata di Mosca, andremo avanti. Intanto il presidente americano Biden ha chiesto alla Russia di rilasciare il giornalista del Wall Street Journal, Evan Gerskovich, arrestato con l'accusa di spionaggio. Una persecuzione politica che si ritorcerà contro Joe Biden. Queste le parole di Donald Trump dopo l'incriminazione a New York per il pagamento di 130.000 dollari alla porno star Stormy Daniels per farla tacere sulla loro relazione. Il presidente Trump non accetterà alcun patteggiamento, dice uno dei suoi legali, mentre le autorità della Florida fanno sapere che non estraderanno il tycoon, il primo ex presidente ad essere incriminato nella storia americana. Donald Trump rischia un'ammenda o la reclusione fino a quattro anni. Agrigento sarà la capitale italiana della cultura 2025. La proclamazione è avvenuta oggi alla presenza del ministro Gennaro San Giuliano e di tutti i sindaci delle città in corsa per la proclamazione. Agrigento l'ha spuntata su altre nove città candidate. Aosta, Sisi, Asti, Bagno Reggio, Monte Sant'Angelo, Orvieto, Pescina, Rocca Secca e Spoleto. Il titolo di capitale italiana della cultura dura un anno. Lo scorso anno era stata a Proci, da quest'anno Bergamo e Brescia. Nel 2024 toccherà a Pesaro e poi sarà la volta della città della Valle dei Templi. Grazie a tutti.